Come c'è parecchia gente che si sta spacciando per me su TikTok, unico profilo esistente mio è il masseo, senza punti, senza virgole, senza zeri, senza o in più, il masseo. Mi faccio una domanda scema magari, però secondo voi io posso chiedervi di seguire qualcuno che non conosco, in cambio io vi concedo il mio numero di telefono, ma sul serio come fate a credere a ste robe?